Benedetto XVI ha esortato a partecipare al sesto incontro mondiale delle famiglie, che si celebrerà a Città del Messico nel gennaio 2009. L'incontro, in programma dal 13 al 18 di questo mese, avrà per tema la famiglia, formatrice ai valori umani e cristiani. Il Papa ha menzionato questo vertice mondiale da lui stesso convocato a Valencia, Spagna, il 9 luglio 2006, visitando il santuario di Pompei. Sfortunatamente, il pontefice non potrà presiedere alla celebrazione per ragioni di salute, poiché i medici gli hanno sconsigliato di recarsi in una città situata a più di 2000 metri di altezza. Grazie a tutti.